Ecco lei! Grazie a tutti! 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 Oh, è così bello! No, e questo è ovvio. No, no, non dite bella così. No, a questo tutti lo dicono. Rome. New York and Rome. La differenza tra New York. The men are handsomer. Prego. In Rome. When in Rome, say what the Romans want you to say. Do the people say, do the Romans do the same thing. Do the Romans do the same proverb. American proverb. American proverb. American, insomma, that they use it a lot. So, what is life for the richie family? What is life for the richie family? Life is music. Yeah. Ecco, questo abbiamo tutto preparato prima. Life is music. Vuol dire la vita è musica. Eh, lo so, lo so, lo so. È il titolo del loro ultimo. E tutti, non posso parlare inglese, ragazzi. Io devo parlare italiano. I must speak italian. No, I'm sorry. And you look at me like... Mi guardano come un pazzo. Qui siamo in Italia, no? Parliamo italiano. That's exactly what I said. That's right, baby. She says it all. Our life is music. It's the best. È l'ultimo 45 giri del richie family. Adesso ce l'ho ad ascoltare. The mics are yours. Grazie. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.